Anticipazioni Uomini e Donne del 18 marzo 2023, niente scelta per la Vigna Mauro. Ecco tutte le anticipazioni sui prossimi appuntamenti di Uomini e Donne, il fortunato dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Da pochi minuti è stato rivelato quanto accaduto nella odierna registrazione di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Grazie a tutti. Grazie a tutti.